Keita Balde, innanzitutto benvenuto all'Inter. Grazie mille, sono molto contento di essere qui con la famiglia interista e darò tutto me stesso per far contenti i tifosi e fare belle cose qui. Hai già avuto modo di parlare con il mister, con i Cardi, Mauro dovresti conoscerlo già con un'altra maglia, quella del Barcellona. Sì, abbiamo passato dei bei anni a Barcellona, lo conosco già da ragazzino, siamo stati insieme alla Masia, con il mister pure, lo conosco. Veramente è stato un grande supporto, di grande aiuto, mi ha voluto fortemente e sono venuto qua per lui, per tutti, per il progetto e sono molto contento di essere qua. Torno in Italia un anno dopo, con tanta esperienza pronto per l'avventura nera azzurra in cui finalmente ci sarà anche la Champions League. Sì, sono tornato adesso in Italia, sono tornato con tanta voglia, tanta forza, è un grandissimo club, è stato fin da piccolo uno dei miei sogni giocare qui nell'Inter. Sono stato già qua, ho esperienza qua, conosco bene il campionato, i campi e tutto quanto e vengo con tanta voglia e forza per far benissimo qua. I tifosi ti hanno già fatto sentire tutto il loro calore sui social, anche qui a Milano, che cosa gli vuoi dire? Sì, veramente i tifosi interisti sempre mi sono piaciuti, anche quando ero qui in Italia, sempre sono stati gentili, educati e niente, adesso che ce l'ho da parte mia, spero farli felici ogni domenica. Grazie, benvenuto. Prego, grazie mille. Grazie.